Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Alessia Marcuzzi non l'avrà presa benissimo questa notizia, in quanto i numeri parlano chiaro e la situazione adesso è totalmente differente da quello a cui lei era abituata Cosa succederà? È una famosa conduttrice, attrice e imprenditrice, la bella e brava, Alessia Marcuzzi, la quale da decenni ammaglia il suo fedele pubblico con i suoi diversi lavori Non è apprezzata soltanto come conduttrice e attrice, ma anche come influencer sui social La conduttrice infatti, sponsorizza il suo noto brand di prodotti per il make-up e di bellezza, ottenendo grandissimi risultati Si è sempre vissuto ad altissimi livelli, quest'anno le cose sono iniziate un po' a vacillare, in quanto i numeri sono cambiati L'hanno battuta e non si sa cosa implicherà questo risultato nella sua carriera lavorativa Successo in bilico per Alessia Marcuzzi? Diciamo che Alessia Marcuzzi in questo periodo sta vivendo un periodo fatto di alti e bassi Il disagio nel lavoro, ma nella vita privata le cose vanno decisamente meglio, in quanto da pochi giorni la sua adorata nonna, Mela, ha compiuto 100 anni Con un toccante post social, la bella conduttrice ha voluto fare gli auguri ad una donna speciale dalla tempra forte Ecco che cosa ha scritto, e sono 100 Auguri nonna! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi Ti amiamo tanto! Tanto! Il post termina con quella frase che ha lasciato tutti senza parole, P E se mi batte ancora a burracco, balla e cucina i nostri piatti preferiti Dopo aver letto queste parole, oltre a fare gli auguri anche noi a nonna Mela, siamo stati invasi tutti da una sorta di invidia, in quanto tutti quanti noi vorremmo arrivare a quell'età in quelle condizioni Ci metteremmo sicuramente la ferma.La nuova stagione di Boomerissima, rispetto alla prima, non è riuscita ancora ad ingranare, in quanto i risultati sono molto tiepidi Nella puntata andata in onda martedì 7 novembre, la classifica da mamma Rai è stata netta, in quanto il primo posto se l'è aggiudicato per Elisa, il caso Claps L'ultima puntata della miniserie basata su uno dei fatti di cronaca più controversi e scioccanti di sempre, ha fatto guadagnare all'emittente statale, il 16,4% di share, tenendo incollati alla sedia ben due 970.000 spettatori.A seguire, Alessia Marcuzzi con il suo Boomerissima ha guadagnato soltanto il 4,7% di share, facendo appassionare una piccola fascia ristretta di telespettatori, pari a 802 000, al terzo posto sopraggiunge a fatica avanti Popolo, dinunzia De Girolamo, con l'1 8% di ascolti.C'è anche da dire però, che nella stessa sera, Mediaset mandava in onda la partita di Champions League tra Milan e Paris Saint-Germain, la quale ha fatto guadagnare all'emittente del Bichon il 25% di share, seguito da, le Iene con l'8,4% e, e sempre carta bianca con il 4,5% Speriamo quindi che la Marcuzzi la prossima settimana trovi un po' meno concorrenza sulla sua strada, anche perché le parole chiusura e anticipata, purtroppo echeggiano molto spesso ultimamente nei piani alti di Viale Mazzini Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video